Si chiama Casauria Nature Youth, il progetto finanziato da Lanci che riguarda Tocco da Casauria verso una comunità energetica. Sindaco, di cosa si tratta? È un bando che tende a formare i giovani sulle politiche energetiche territoriali con l'idea di costruire, di incubare una capacità poi di autoproduzione locale che vada verso la realizzazione di una vera comunità energetica. L'ecosostenibilità è uno dei punti fondamentali dei programmi degli ultimi 10-15 anni a Tocco da Casauria. In realtà, come ben sapete, anche da molti anni prima, perché le prime paleoliche furono messe nell'89 a Tocco da Casauria e le prime pane in Italia. È un lungo percorso che ci ha portati a programmare come amministrazione comunale negli anni una serie di progetti e di realizzazioni per quanto riguarda delineare un futuro rispetto all'ecosostenibilità del territorio. Oggi il passo oltre, con questo bando e questo finanziamento del Lanci, il passo oltre è quello di fare in modo che crescano i giovani nel nostro territorio e che possano essere loro poi capaci di fare il passo avanti e di costituire una comunità energetica locale e quindi fare un'economia che nasca e si sviluppi tutta all'interno del territorio dell'area Casauriense. Noi siamo stati partner fine dall'inizio, abbiamo stimolato questa iniziativa, questa ennesima iniziativa perché Tocco da Casauria va riconosciuto in comune virtuoso nel senso della ricerca di modi per produrre energia rinnovabile ed alternativa da molti anni, insomma gestisce un parco eolico che è un parco di riferimento sia per la sua capacità produttiva legata ad una posizione perfetta sia anche per la sua compatibilità con l'ambiente in cui si è inserito. Quindi noi siamo ben felici di sostenere il comune come facciamo con tutti quanti i comuni del parco per un'iniziativa che avvia un processo che noi speriamo possa rappresentare un ulteriore volano virtuoso.